Back's Den è la rubrica in cui trovare recensioni accurate dei giocattoli di una volta. Vi mostriamo la nostra trentennale collezione di migliaia di action figure, giochi e giocattoli sempre, rigorosamente, originali. Non ci sono ristampe e non ci sono prodotti creati per nostalgici e collezionisti, ma solo giocattoli del passato, perfettamente conservati e funzionanti. Recensioni dettagliate e arricchite da curiosità di informazioni sulla loro storia. Le linee più amate e conosciute ed altre che non avete mai visto prima. Se siete curiosi avete trovato come passare un po' di tempo.